Riccardo Bottino all'Aile di Catania e ai medici che oggi ci aiuteranno a parlare di mieloide cronica e di capirne sempre di più ed essere più consapevoli di questa patologia. Io sono un paziente diagnosticato nel 2000, come molti di voi ormai sanno da tempo, sono uno di coloro che ha partecipato a quello studio chiamato Iris, che nell'agosto del 2000 è partito in Italia e ha permesso poi in giro per il mondo di applicare, attivare questo farmaco, i Matinib. Io ne sono venuto a conoscenza da un amico, da una persona che ho incrociato in internet all'epoca e che parlava di questa sperimentazione clinica che poi ardentemente cercai di trovare anche in Italia e così fu arruolato in questo studio clinico. Quindi la mia esperienza parte sia come paziente e poi nel tempo, grazie a quanto avevo visto tramite la rete, attraverso i gruppi internazionali di pazienti. Infatti c'è una comunità di cui oggi io sono il presidente, pro tempore, che racgruppa 122 gruppi pazienti di mieloide croniche in giro per il mondo, 92 sono i paesi rappresentati. È una comunità molto attiva che è stata pioniera, come pioniera la mieloide cronica nel campo della battaglia, della lotta contro il cancro. Il gruppo pazienti nasce nel 16 ottobre del 2009 a Roma, dove insieme ad altre 5 persone, 5 pazienti, eravamo accompagnati anche dai nostri familiari, abbiamo sottoscritto l'atto costitutivo, lo statuto e poi il 27 di febbraio del 2010, tutti insieme, eravamo circa 200-230 persone all'AIL di Roma, avevamo invaso l'auditorio e c'era anche un monitor esterno nel foie, nel giro di pochi mesi eravamo riusciti a raggruppare tutte queste persone, a radunare tutte queste persone che venivano, come vedete, da questa immagine dell'Italia, da tutta Italia. È stato bello, era un momento in cui di mieloide cronica non c'era la certezza della cura che c'è oggi, non c'era la certezza che c'è adesso, erano appena usciti i farmaci di seconda generazione, ricordo il 2009, il Gliwek viene approvato a maggio del 2001, e uno, quest'anno sono 20 anni, ha compiuto 20 anni i Matinib dall'approvazione all'FDA in America, e da 20 anni ne abbiamo fatto di strada. La mieloide cronica da una malattia a prognosi sicuramente in fausta è diventata una malattia che si poteva gestire all'inizio, che si poteva cronicizzare, e in questi dieci anni insieme abbiamo festeggiato a Bologna due anni fa, stavo per dire l'anno scorso, perché per me l'anno del Covid è un anno che è come se si fosse cancellato dalla mia memoria. Due anni fa a Bologna ci siamo incontrati con il professor Tura, ma in particolare con il professor Baccarani e Saglio, che insieme a me mi avevano accompagnato per chiedere al professor Mandelli di ospitare il gruppo pazienti all'interno di AIL. Una bolla, una bolla costituita da pazienti e familiari, con l'idea di poter condividere le nostre esperienze, poter avere un contatto diretto con quelli che sono i working party del Gimema sulla mieloide cronica, quindi avere un contatto diretto con gli specialisti come il professor Di Raimondo, Stagno, la Fava, Massimiliano Bonifacio e tutti i medici che oggi sono qua, ma che in giro per l'Italia nei 150 centri Gimema seguono con professionalità e passione e con gli stessi protocolli e con la stessa capacità diagnostica terapeutica i pazienti di mieloide cronica. Ma non è solo questo il nostro obiettivo. Il gruppo pazienti ha l'obiettivo sì di creare consapevolezza, conoscenza, è la prima base essenziale e in questi anni abbiamo organizzato oltre 45 seminari, io li chiamo regionali, nel senso che quando li organizzavamo in presenza, il seminario organizzato a Catania diventava il seminario organizzato per la Sicilia, piuttosto che lo stesso in Calabria, lo stesso in tutte, abbiamo girato tutte le regioni d'Italia sia dove c'è la presenza di AIL che dove non c'è la presenza di AIL come l'Umbria e abbiamo incontrato quasi tutti i centri ematologici e i pazienti dei vari centri ematologici. Siamo stati insieme attraverso e siamo insieme attraverso i social media, malattia rara e le mieloide cronica, quindi è difficile costituire dei gruppi in ogni città, anche se oggi grazie alla ricerca, grazie alle terapie, siamo sempre di più coloro che vivono con questa, che un tempo, ripeto, era una malattia a prognosi in fausta, a me avevano dato dai 3 ai 5 anni di vita dicendomi che l'unica alternativa, l'unica possibilità di cura potesse essere solo il trapianto, dandomi anche tutte le percentuali di rischi e io all'epoca avevo 41 anni, 3 bambini, non mi potevo permettere di lasciarli orfani ed è per questo che ho combattuto e cercato e poi ho voluto che anche altri non subissero le stesse travagli e potessero essere agevolati da questo, ma poi la mieloide cronica, come dicevo, nel tempo è diventata sempre più curabile, è diventata sempre meno uno spauracchio e quindi noi cerchiamo di stare insieme con i social media, con le pagine Facebook, ma allora, mi direte voi, ma visto che la mieloide cronica ormai è una malattia, la leucemia, la mieloide cronica, ecco io tolgo la parola leucemia spesso senza accorgermene, però è quella parola che di fronte alla diagnosi ci ferma tutti per un istante, anche quelli che sono diagnosticati oggi, anche se il medico gli dice, eh ma guardi, lei è fortunato, ha avuto una diagnosi, una leucemia, una leucemia, una leuce cronica, capisce, però il paziente non capisce, quando senta la parola leucemia chiude le orecchie, non capisce più nulla e quindi è necessario continuare con quest'opera di informazione, e diffusione delle informazioni, abbiamo costruito in questi anni anche realizzato dei materiali informativi che ci hanno accompagnati in questi anni, che sono disponibili sul sito web del gruppo, sul sito web dell'AIL, ne abbiamo anche realizzato uno di recente sulla base di quello che era, che è stata una, un booklet realizzato a due mani con i medici del working party Gmema, che si occupano di melodia cronica, dicevo, ma allora, parlare di avvocasi, perché avvocasi vuol dire anche gestione dei diritti, non è solo incontrarci e parlare di malattia, incontrare un'altra persona che vive da anni con quella patologia, non è ascoltare i medici soltanto su quelle che sono le informazioni, ma è anche accesso alle terapie, alle migliori terapie, sembrerà strano, ma in Italia, ancora oggi, qualche problema si trova. Io mi sono imbattuto qualche giorno fa per una piccola regione d'Italia, forse la più piccola regione d'Italia, a dover cercare una soluzione per i pazienti che soffrono di meloide cronica, perché in quella regione, sia pur piccola, non è presente un centro di ematologia, e quindi i pazienti sono spesso disorientati, non sempre ricevono i farmaci, perché i medici che li seguono non sono ematologi, sono degli oncologi, e quindi non conoscono forse bene l'aderenza che è necessaria in questa terapia, per cui la paziente era rimasta anche senza terapia per un mese e oltre, e quindi è importante ancora oggi parlare di advocacy anche per la meloide cronica, proprio per indirizzare e per sollecitare anche, per lavorare anche a due mani con i medici, su quelli che sono, ma la gravidanza oggi è possibile? Sì, ma è possibile l'interruzione della terapia? Certo, ce ne parleranno i medici, ma è possibile avere accesso ai mutui e alle assicurazioni? Purtroppo no, perché oggi ancora è obbligatorio dover dichiarare se hai avuto una malattia oncoematologica, e quindi rischi che la banca ti neghi in mutuo, ma allora è necessario combattere per i diritti quello che per esempio in Francia hanno effettuato, hanno realizzato con la legge per il diritto cosiddetto all'obbligo, che non è l'obbligo del GDPR, della privacy, ma è e quindi di non essere più riconosciuti, di potersi dimenticare della persona nella rete, ma è non dover più dichiarare per una persona che è tecnicamente guarita o operazionalmente guarita, non dover più dichiarare di essere un paziente e quindi avere diritto ai finanziamenti come tutte le altre persone. In questi anni ne abbiamo fatte di cose, in questi anni e continuiamo a farlo, partecipiamo a convegni, siamo collegati direttamente col mondo scientifico, facciamo insieme alla CML delle pubblicazioni a livello internazionale, facciamo delle ricerche, ma ci occupiamo di avvocasi, questa di Aosta che vi dicevo adesso, ma anche quella che abbiamo fatto tempo addietro, agli inizi, agli albori della nostra nascita come gruppo pazienti, di chiedere alla rete oncologica piemontese un modo diverso di distribuire i farmaci, a scrivere al ministro della salute, all'epoca era la Lorenzin, per l'approvazione rapida di un farmaco, che per noi salva vita e importante per alcuni pazienti che fra di noi hanno la mutazione T315i, e così via, per scriverla a Leggiore Veneto per chiedere che i pazienti potessero avere accesso alle terapie all'epoca di seconda generazione, come tutti gli altri in tutta Italia, perché l'Italia, e l'abbiamo visto col Covid, è una nazione unica, il diritto alla salute, sancito dall'articolo 32 della Costituzione, dice che tutti abbiamo gli stessi diritti, ma poi questo non è vero, vi dicevo di agosto, e vediamo che ci sono posti dove in una città, in una regione, un farmaco viene approvato, nella regione accante il farmaco non è disponibile, o viene approvato dopo, perché deve entrare nel prontuario terapeutico, ma l'abbiamo visto col Covid, 21 teste, 21 regioni, 21 regioni o province autonome, e quindi abbiamo in questi anni anche indirizzato progetti di ricerca come abbiamo fatto partire quello che è il registro per le gravidanze, che oggi a livello internazionale è un esempio per i pazienti di mieloide cronica e per i medici che si occupano di questa terapia. Abbiamo insieme alle ORTC e alle AGMEMA realizzato un questionario per verificare gli effetti collaterali e capire il grado e l'impatto della qualità di vita che ha la mieloide cronica e i farmaci e poi abbiamo realizzato anche il progetto Euriclea, quello di promuovere il network infermeristico a supporto dei pazienti. Vicenza è una realtà in cui per esempio questo è stato realizzato e sicuramente funziona e sulla strada della guarigione siamo, certo si parla di guarigione e mi piace quando arrivo a questo punto raccontare, leggere le parole di un amico che aveva lasciato sul forum del nostro gruppo che dice caro compagno di viaggio parlando al Glivec scrive caro compagno di viaggio non so come ringraziarti per questi 12 anni vissuti fianco a fianco senza mai venire meno al tuo impegno giornaliero feriali sabato domenica festivi sempre presente 365 giorni l'anno ti devo molto troppo ma fortunatamente devo salutarti penso di poter camminare da solo addio Imatinib sei un grande quello che non mi uccide diceva mi fortifica un sospeso Giulio e così dicevo abbiamo realizzato anche progetti di ricerca proprio nell'ambito della TFR del Treatment Free Remission di quella che noi chiamiamo sospensione in italiano o interruzione di terapia ovviamente solo e soltanto sotto controllo specifico del medico senza fare di testa propria perché per indirizzare questa malattia è fondamentale e importante l'aderenza terapeutica abbiamo fatto una survey dove abbiamo raccolto 1016 testimonianze di persone provenienti da 68 nazioni diverse e abbiamo parlato e abbiamo visto quelle che abbiamo presentate all'ASH che è uno dei convegni più grandi al mondo che raccoglie 30-40 mila ematologi che arrivano da tutto il mondo in una delle città americane come le H che invece è l'equivalente convegno europeo anche lì è dove migliaia di medici ematologi si incontrano per fare il punto ed è successo nel paio di settimane fa all'inizio di questo mese e poi abbiamo anche realizzato momenti belli proprio perché siamo sulla via della guarigione nel 2017 la prima fit walking realizzata proprio in occasione della giornata mondiale per la leucemia meloide cronica che come tutti gli anni ricorre il 22 settembre 9-22 è la nostra traslocazione quindi un momento per stare insieme per condividere i momenti belli i momenti più duri e poter pensare al futuro tranquillamente ma l'anno scorso come dicevo prima è arrivato in mezzo a noi uno tsunami il covid che se vogliamo dire il sostantivo che meglio descrive lo stato d'animo di tutti i pazienti meloide cronica compresa è stata la paura paura del contagio paura dell'isolamento paura di rimanere soli col covid senza un conforto delle persone care in particolare fra l'altro con una disinformazione che ha imperato siamo stati bombardati siamo bombardati adesso un po' con gli europei di calcio si sta un po' scemando la cosa ma siamo stati bombardati ognuno voleva pigliare la parola virologi non virologi biologi sedicenti tali fake news che hanno girato su tutti i media sono successe cose veramente strane sono state errate addirittura si è la classifica delle malattie è cambiata il covid era peggiore del cancro così si sono ritardati i trattamenti urgenti per evitare il contagio e c'era sia anche i pazienti non volevano andare nei centri avevano paura di contagiarsi è stato un momento terribile di confusione fortunatamente questo sta cambiando i vaccini hanno modificato alcune cose ma il covid ha avuto un impatto che ancora oggi vediamo è difficile da recuperare il 30-40% delle visite ambulatoriali è stato rimandato il 20% dei pazienti oncologici che avrebbe dovuto essere sottoposto a trattamenti utili ha scelto di non regarsi ai centri addirittura io vedevo l'altro giorno entrando sul fascicolo sanitario e vedevo per mia moglie prevenzione serena è interrotta e prevenzione serena è un progetto che in Piemonte c'è per la prevenzione contro il cancro al seno e delle donne ecco e questo è grave ancora oggi è interrotto quella diciamo prevenzione che è necessaria per un futuro a causa dell'emergenza i caregiver ancora oggi in molti ospedali non possono accedere ma spesso il paziente specialmente il più anziano il più confuso quello che si trova in un momento particolare ha bisogno avrebbe la necessità di avere vicino il parente perché insieme si è meno fragili si riesce a partecipare e quindi abbiamo suggerito ai medici di permettere almeno virtualmente di partecipare alla visita il covid è stato uno tsunami negativo per alcuni versi ma è stato anche è anche un'opportunità un'opportunità per delle cose nuove non la telemedicina come l'abbiamo vista spesso solo chiamata telemedicina quello che era il contatto telefonico via whatsapp ma per un approccio nuovo che va però tarato e capito bene dove e come applicarlo adesso volevo dirvi che noi ci ritroveremo poi ancora il 16 il 17 settembre e stiamo lavorando insieme alla conferenza nazionale che tutti gli anni si svolgeva nel mese di maggio però già dall'anno scorso è stata spostata e sarà quest'anno il 16 il 17 settembre nella quale come gruppi pazienti abbiamo inserito un tema importante che aprirà la conferenza anzi vi invito tutti coloro che non l'avessero fatto o che hanno lasciato in completa la la compilazione della survey di andare il proprio contributo compilando la survey e andando sul sito della conferenza nazionale lo trovate anche su facebook cercando per paziente con neopasie ematologiche lo trovate sul link della pagina lmconline.it e trovate il link alla survey vi raccomando compilatela partecipate anche voi date il vostro contributo perché lo hanno già dato il 900 però penso sia importante che sia ancora più il numero delle persone che ci aiutino a capire quali sono i bisogni e le necessità dei pazienti di tutte le malattie onco-ematologiche ma ci tengo a sottolineare che abbiamo come gruppi pazienti abbiamo suggerito e è stato accettato di inserire una tavola rotonda all'inizio in cui analizzeremo i risultati della survey ma in particolare parleremo del cancer survival e il diritto all'oblio quello che dicevamo prima abbiamo invitato anche la diciamo l'onorevole la deputata europea Moretti il dottor De Maso e De Angelis che sono dei diciamo epidemiologi che ci possono dire in particolare sui registri del cancro quante persone oggi sono lungo sopravviventi è brutto sto termine meglio cancer survivor e altri che ci aiuteranno a parlare ad affrontare in questa tavola rotonda il diritto all'oblio speriamo di poter partire con un manifesto che venga sottoscritto e dal quale si comincia a parlare anche in Italia di una legge che garantisca ai pazienti di non avere più lo stigma del cancro sulla pelle e ricordo a tutti e con questo concludo che il 22 settembre è la nostra giornata intorno a quel giorno anche noi organizzeremo qualcosa che ci permetterà di stare insieme e di poter condividere le nostre esperienze io vi ringrazio resto disponibile per chi volesse contattarmi via mail o comunque anche via whatsapp e via facebook